Come hai avuto i problemi di retinite pigmentosa? Ho perso la vista, però la diagnosi mi è stata diagnosticata subito, quindi ho cominciato a perdere la vista, finché poi sono arrivata a perdere la vista. Ho sentito poi alla televisione di questo intervento e quindi ho poi deciso di farlo. Nella mia vita ha portato anzitutto molta voglia di vivere, di più di prima, perché da quando ho fatto l'impianto mi sono messa e mi sono imposta di uscire di più di casa e infatti così è successo. E poi sicuramente anche dei piccoli progressi, come vedere certe ombre, certe luci che prima non vedevo. Vedo le ombre, la mano, riesco a vedere la mano che si muove bene, se mi concentro riesco a contare le dita, per modo di dire, perché la mano non è che la vedo benissimo, però so che è la mano e il conto dei dita. Dipende molto dalla luce però, il modo di usare l'apparecchio non mi ha creato problemi. Mi sembra di averlo usato abbastanza bene subito, mi sembra. Poi è stato un gran stimolo per uscire di casa, vero Alida? Tu che sei la mia, ecco, perché pian piano mi stavo, non uscivo quasi più da sola, se non da basso a prendere la frutta perché è proprio il negozio sotto e basta. Invece ho cominciato, sono andata in banca, ho cominciato ad andare dal parrucchiere, ho cominciato ad andare, allontanarmi di più da casa, pian piano, pian piano. E riuscire a stabilire il punto dove sono, perlomeno nei dintorni di casa, ecco. Magari guardare il cielo e vedere, stabilire se sono in centro alla via, se sono piuttosto sulla destra, sulla sinistra, perché riesco a stabilire dove ci sono i tetti, vedo proprio la linea del tetto e quindi riesco a stabilire se sono in centro o no, alla viuzzola di casa mia. La soddisfazione proprio più grande è stata quella di vedere la luna, la luna piena, l'ho vista proprio, bella, piena, una sera. Una bella palla luminosa. È una bella palla luminosa e quella volta lì mi sono scesa un po' di lacrimucce, sì, sì, ti ricordi? Mi si sono illuminati gli occhi, sì, sì, è così. Ma delle volte, ecco sì, sono andata con una mia amica in biblioteca di proposito per fare degli esercizi e ci sono tutti i libri che sono tutti esposti e una mia amica l'ha tirato fuori proprio da tutti gli altri ed è rimasto un pochino più sporgente degli altri. E lei mi ha detto vallo a prendere e sono riuscita, al volo sono riuscita. Quella è stata una grande soddisfazione. I miei progetti sono quelli di sicuramente di migliorare e di poter essere sempre molto più autosufficienti di quello che sono tuttora.